video wow video stamattina mangio penne ragù pronto ragù star ecco l'orario quasi sette di mattina wow video wow questo da wow pronti si gira azione cottura perfetta al dente straordinaria si è formato come un sugo come una crema parmigiano la gusta la miglior cosa incredibile wow ci voleva una pasta così stamattina questa è una super colazione wow ciao 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 ciao